Si può parlare di una città in molti modi diversi, mostrando le sue bellezze, descrivendo le sue tradizioni, raccontando la vita di chi ci vive, di chi ci lavora. Si può amare una città in molti modi diversi. Montagnana First è un gruppo di professionisti che amano la loro città. Montagnana First promuove e sostiene le azioni più efficaci per lo sviluppo turistico e la crescita economica del territorio. Montagnana First affianca gli operatori di Montagnana nella valorizzazione della loro capacità imprenditoriale e realizza iniziative per la promozione delle attività produttive del territorio. Perché un territorio dove si vive bene è un territorio bello da visitare. È evidente che la comunicazione pubblicitaria del terzo millennio non può prescindere dalle emozioni. Una buona immagine, chiaro per il cliente, deve essere attraente e una descrizione semplice. Esperti di comunicazione, social media e marketing strategico disponibili a condividere idee e progetti che spingano Montagnana a compiere quel balzo in avanti che tutti ospichiamo. contribuiamo a diffondere abilità e conoscenza, un'attenzione ai valori del vivere sociale, la passione per la cultura e le tradizioni storiche. Perché una comunità informata, curiosa e sapiente sa fare accoglienza turistica di elevata qualità.